Un documento venne firmato. Chi l'avrebbe mai detto al tempo dei grandi discorsi e dei riflettori, al tempo della sua apoteosi? Dopo un mese dalla sua morte hanno rovesciato persino la sua memoria. Quella mattina la sua statua stava bianca ed enorme in mezzo al giardino dello scultore. Era quasi finita. Arrivarono due manovali con le subie e le mazze e i loro cappelli di carta per sfigurarle la faccia. Gli scalpelli sfriggiarono il volto e spensero gli occhi. La testa crollò con un tonfo sull'erba. Venne firmato un documento e fu tutto. Commento. Può essere rovesciata la memoria di chiunque e chi non ha una visione trascendente della vita grida allo scandalo, come se la vita di un personaggio o di uno sconosciuto avesse un valore obiettivo. Potesse essere valutata come giusta o ingiusta. Invece, la vita di ognuno, per il fatto stesso che è stata vissuta, ha già adempiuto al suo compito, che è quello di evolvere l'individuo. Per questo non esiste una vita eccellente o anonima, ma solo il succo evolutivo che l'individuo sa trarre dalla sua vita. Grazie. Grazie.